Uè bellini, faccio il cappuccio questa mattina, lo tolgo dai, io non so mai dove guardare quando faccio il video, guarderò lì, vediamo un attimino se magari è così Allora ragazzi miei belli, Lukaku non ce la fa neanche per giocare contro la Roma a San Siro, quindi niente Mou per Romelu e quindi siamo all'ennesima volta in cui Romelu sta per fatti suoi, cioè nel senso che non è che sta per fatti suoi, non può essere della partita E mi sono rotto un tantino le scatole, non so voi, io mi sono rotto un tantino le scatole perché ho la netta sensazione che questo giocatore purtroppo per la stazza fisica che ha se non seguito da un preparatore atletico con i contro attributi come può essere stato Pintus Penso ce ne sia uno in tutta Europa come Pintus, io penso che questo giocatore per la stazza fisica e per la muscolatura che ha abbia seri problemi a riprendersi da un infortunio muscolare Io spero vivamente che Romelu possa riprendersi per la partita contro il Barcellona ma attenzione, ho anche paura di rischiarlo a sto punto perché se questo qua oggi che è giovedì ancora non è pronto e sabato non sarà pronto, com'è che è pronto martedì? Io eviterei di rischiarlo anche per la partita contro il Barcellona, tanto ormai abbiamo fatto 30 e facciamo anche 31, non è che è quello il problema di base E quindi io non lo rischierei neanche contro il Barcellona, anche perché vi dico una cosa, adesso arrivano i mondiali, questo qua se si fa di nuovo male ai mondiali Noi Lukaku praticamente l'abbiamo preso per lasciarlo in panchina, per lasciarlo anzi in tribuna, anzi a casa direttamente E questa non è una cosa bellissima insomma Poi che c'è da dire più perché oggi ce ne sono un po' di cose da dire Vabbè Brozovic purtroppo resterà fuori per almeno un mese, quindi secondo me Brozovic lo rivediamo di nuovo dopo i mondiali Se tutto va bene o al massimo la partita precedentemente ai mondiali Ma questo è, cioè Brozovic noi ce lo siamo giocato prima dell'inizio dei mondiali Poi chi abbiamo più? Vabbè poi fortunatamente tutti quanti faccio corno e non dico nient'altro Ma che meglio, io sono molto scaramantica ragazzi miei Allora in questi giorni ho fatto dei video contro il bullismo Questa è una piccola parentesi del video Ho fatto dei video contro il bullismo e il cyberbullismo Molti di voi mi dite, mi scrivete anche su Facebook Dove ho pubblicato un cyberbullismo da parte di una signora di 70 anni Che è qualcosa di meraviglioso, guardate veramente, credetemi E se andate a vedere sulla pagina Facebook Luquezia Capone Internazionale Milano Non è che vi fate le risate, vi crocifiggete per quello che mi ha scritto una donna di 70 anni Che può essere mia nonna, cioè è una cosa imbarazzante direi io Ah beh però comunque Sì ma anche mia mamma volendo, se mi avesse fatta 30 anni volendo sarebbe potuta essere anche mia madre Non solo mia nonna, anche se mia mamma ha 56 anni, quindi la mia mamma è giovanissima E mi dite tantissime volte, mi dite non ti curare di loro ma guarda e passa Blocca lì subito, non gli dare importanza, no? E invece no, perché questa gente deve pagare Io e da quando sono sui social che lotto contro il cyberbullismo e il bullismo ragazzi Quindi io sono una, come si dice, un'ambasciatrice E di me stessa contro il cyberbullismo e il bullismo nelle scuole e quant'altro E mi batterò affinché, perché chi è che fa questo? Tipo io, tipo me Che fa questo sui social? Ma ragazzi ma qualche... Cioè deve essere, deve fare una campagna di sensibilizzazione in base a questa cosa Anche perché noi youtuber, instagrammer, facebookiani, insomma Ne riceviamo tante di quelle cattiverie gratuite Ma ragazzi, credetemi, a volte veramente senza un reale perché Cioè è proprio cattiveria buffa Cioè la signora mi ha detto che mi porto male i miei 40 anni Che mi devo andare a controllare Che sono la vergogna delle donne Che è vero la solidarietà femminile Bisogna averla ma per chi la merita E io non sono degna Poi che cosa mi ha detto più? Che internet, che tutti quanti su internet si sono schifati di me Si è schifato di me il mondo internet Insomma tutte queste cose bellissime Meravigliose Infatti, quindi io vi invito veramente Vi invito veramente a denunciare queste cose Se vi accadono queste cose denunciatele Come si denuncia? Non si denuncia per forza dai carabinieri o dalla polizia postale Perché alla fine dei conti io ci ho provato Eh sì, vabbè, è tutto a posto Però poi lasciamo perdere E si denuncia anche come Io ho fatto gli screen alla signora Bella Di tutti i commenti che mi aveva fatto Dopodiché li ho pubblicati tutti quanti E l'ho messa davanti al fatto compiuto Davanti a tutte le persone della mia pagina Davanti a tutti quelli che mi seguono Davanti a tutti i miei seguaci L'ho messa proprio bella E ho detto Beh, ora pensateci voi Non vi dico a distruggerla Perché comunque sono sempre stati molto educati E devo dire la verità Non sono andati oltre Anche perché a me non piace Poi che fai Combatti il bullismo con il bullismo stesso No, quello assolutamente no Però certe cose vanno denunciate E certe persone devono pagare Anche in questo modo Anche messi in pubblica piazza Con quello che scrivono Ma bisogna che paghino Perché se no Altrimenti qui sul social Non si riesce mai a debellare La melma che c'è in giro Ok? Quindi non fate finta di niente Perché dico Siamo sempre stati abituati spesso A fare finta di niente Ma i problemi si risolvono E non si fa finta di niente Ecco, questo lo volevo chiarire Una volta e per tutte Poi Sabato Ci sarà finalmente Spero Mi auguro La possibilità di vedere Aslani in campo Tra le varie formazioni possibili Ho notato Che c'è ancora una volta Roberto Gagliardini Sì Roberto Gagliardini Dice sì Roberto Gagliardini Un Essere umano Che ha la sembianza Di un calciatore Ma che poi in realtà È una papera Ok? Quindi Nel vocabolario Esce questo Quando chiedi di Roberto Gagliardini Dico A parte gli scherzi Poverino Che io lo rispetto tantissimo Ma purtroppo La verità è È una sola Una È assoluta I giocatori Che si prendono Dalla Dall'Atalanta Non hanno più fatto nulla Da nessun'altra parte E ha voglia che parlate Potete dire quello che volete Mi dispiace veramente Dire questa cosa Per i tifosi dell'Atalanta Perché alla fine Non mi stanno neanche Sulle scatole Però ragazzi miei È un dato di fatto Chi è che esce Da quella squadra lì Dopodiché Nelle altre Fa acqua Come mai? Punto di domanda E allora Io la mia risposta Ce l'ho Ma come ce la vede Tutti quanti Del resto Ma me la tengo Ben salda Nella mia mente Nel mio Cervello Vedi Gagliardini Nell'Atalanta Era un fenomeno Arrivato all'Inter Brocco Vedi Gosens Nell'Atalanta Era penso Il Più forte Nel suo ruolo In Europa Adesso Pippa Non che pippa Di cose brutte Pippa Nel senso che È una pippa Cioè O quantomeno Finora Non ha dimostrato Quello che è veramente Robin Gosens Ma siccome È un grande Professionista Io sono certa Che migliorerà Spero Mi auguro Faccio i diapotopraici Affinché avvenga Scherzi a parte Poi chi c'è più Il Papu Gomes Ragazzi Il Papu Gomes Andato via Dall'Atalanta Per motivi Ancora oscuri A noi Del perché Abbia litigato Con Gasperini Magicamente Arriva nel Non mi ricordo Forse nel Valencia Sta giocando Non mi ricordo In Spagna Se non erro E fa ridere E fa ridere Anzi Non gioca nemmeno Quindi Motivo per il quale Io inviterei La società Nerazzurra A non fare più Acquisti Dall'Atalanta Grazie Perché la cara Dea I Dei Quando vanno via Da loro Le fanno diventare Veramente Popolani Semplici Normalissimi Anzi 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 Detto questo Mi auguro Che Aslani Possa Essere Titolare Inamovibile In questo mese In cui mancherà Marcello Brozovic Qualora Non dovesse Essere così E allora Allora Mi fa arrabbiare Simoncino 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 Io ti difendo Sempre Ma non mi fare Incazzare Perché se si incazza L'agapuano Sono cazzi tuoi Eh ok Perfetto Detto questo Perdonatemi Per a volte Gli sproloqui Ecco Sproloqui Paroline Dai cazzi Ormai mazzi Tutti quanti Li nominiamo Dai Non è che In televisione Per far ridere Ormai Conoscono solamente Le parolacce Quanto meno io Non sono di questo Avviso Nel senso che Ho una pagina Instagram Dove faccio Assolutamente cose Sketch comici Videodivertenti Che si chiama Lucri 1802 E poi Ho una pagina Tiktok Un profilo Una pagina Tiktok Dove Faccio monologhi Dico la mia Insomma Se volete seguirla Oltre al calcio Io faccio anche questo Si chiama Lucri Artist E poi ovviamente I vari social Mie li conoscete Su Su Tiktok Sono Capuano Lucrezia Per il calcio Sempre Su Instagram Sono Capuano Lucrezia E Su Facebook Lucrezia Capuano Internazionale Milano E su Youtube Lo sapete Perché Lucrezia Capuano Internazionale Milano Questi 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 sono I miei social Se mi volete Seguire Vi Volete Volete Seguire Perché Io parlo Russa Da oggi Parlo Russa Volete Seguire No Se mi Volete Seguire Su Su Tutti I social Ragazzi Miei Lo potete Fare Tranquillamente E anche se vi Interessa la mia A parte Extra Calcio Anche su Facebook C'è una pagina Che si chiama Lucrezia Capuano Ama E Fai Tutto Con Passione Questa E' una pagina Che comunque Tratta Vari Argomenti In Generale In genere Faccio Dei Video Comici Per lo Più Che Sono Quelli Che Poi Mi Rappresentano Quello Che Faccio Da Una Vita Ma Anche Monologhi Teatrali A volte Di più Nel Pieno Inverno Mi Metto A Fare Dei Monologhi Teatrali Ragazzi Se vi Va Io Sono Sono Lucrezia A tutto Tondo Vi Vi Racconto Un po' Quello Che io Sono In generale A 360 Gradi E In Questi Giorni Ovviamente Dopo Dopo La Partita Perché Sto Aspettando Che sto Fremendo Non Non Potete Capire Quanto Ho Una Un No Ansia Ho Un'adrenalina Pura Di Arrivare A San Siro Di Vedere Tutti I Amici Di Abbracciarli Fortissimo Di Vedere Voi Perché Molti Di Voi Saranno Allo Stato Saranno A San Siro Quindi Sarò Contenta Di Abbracciare Anche Voi E Di Vedere La Mia Inter In Campo Ma Che Cosa Meravigliosa È Io L'Amo Trovo Ma Come Devo Fare Che L'Amo Così Tanto Non Potete Spiegare Come Si Fa A Non Amare Così Tanto Da Soffrire Come Un Cane Bastonato Quando Le cose Non Vanno Come Dovrebbero Andare Detto Questo Io Vi Abbraccio Forte Come Trattano Di Calcio Però Quelli Che Non Trattano Di Calcio Ve Li Ho Già Detti Quindi Se Non Ve Li Ricordate Fate Un Attimino Rewind Andate Indietro E Vedetelo Va Bene Ricordatevi Sempre Che La Vostra Lucri Vi Vuole Bene E Sempre Sempre E Solo Forza Inter